Ben trovati al TG7 Basilicata. Oggi nel territorio delle regioni di Basilicata, Puglia, Lazio e Lombardia, conclusione di complesse indagini portate avanti dai carabinieri della compagnia di Matera col supporto nella fase esecutiva dei competenti locali comandi territoriali dell'arma è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Matera nei confronti di quattro persone nonché quattro decreti di perquisizione e un provvedimento di sequestro preventivo di un'abitazione del valore di circa 150.000 euro. Il reato contestato è stato quello di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione di donne orientali di origine cinese. I provvedimenti di cattura sono stati eseguiti nei comuni di Bernalda, Altamura, Milano e Formia mentre nel comune di Matera si è proceduto al sequestro dell'immobile all'interno del quale avvenivano gli incontri con le prostitute. L'attività investigativa condotta dai militari della sezione operativa ha permesso di individuare diversi soggetti che hanno costituito un vero e proprio sodalizio criminale. Un 63enne di origine cinesi in qualità di promotore ed organizzatore dell'associazione aveva preso in locazione un appartamento nel quartiere Piccianello di Matera trasformandolo in una casa di prostituzione. L'immobile era stato dato in locazione ad un 56enne di Altamura a sua volta a conoscenza dell'attività di meretricio che si svolgeva all'interno della casa. A partecipare attivamente al sodalizio criminoso erano inoltre un 69enne di Bernalda che si occupava di portare cibo e acqua alle prostitute e di provvedere ai loro spostamenti. E un altro uomo, un 53enne di origine cinese che provvedeva invece a pubblicizzare le prestazioni sessuali delle donne all'interno dell'abitazione attraverso la pubblicazione di specifici annunci su un noto sito web di incontri, indicando un numero mobile da contattare per gli appuntamenti. Le indagini hanno contotto forti indizi di colpevolezza anche a carico di due donne di origine cinese non ancora identificate. Una si occupava di gestire le chiamate provenienti dei clienti, di pianificare gli incontri con la prostituta all'interno dell'appartamento, mentre l'altra, presente sempre nell'appartamento per una stanza separata, riscuoteva i soldi dei clienti, provenienti dal capoluogo materano e da comuni limitrofi, a sua volta consegnatele dalla meretrice. Per ogni prestazione, in media, veniva pagata la cifra di 50 euro, 30 finivano nelle mani dell'organizzazione e 20 nelle mani invece della ragazza che si prostituiva. Gli accertamenti hanno evidenziato che le prostitute venivano sostituite a loro volta con altre ragazze, in media, ogni due settimane circa. I vigili del fuoco di potenza, in data odierna, hanno commemorato la propria padrona, Santa Barbara, iniziando la cerimonia alla presenza del prefetto annunziato Vardè, con la deposizione della corona di fiori all'altare dei caduti, per poi spostarsi all'interno della palestra del comando per la cerimonia religiosa, ricca di letture e canti solenni. A presiedere la celebrazione, Monsignor Ligorio, il concelebrante è stato padre Valentino dei frati minori Capuccini della parrocchia del Rosario di Betlemme. Alla Santa Messa presenti le maggiori autorità civili della provincia e del comune di potenza. Parole di apprezzamento da parte del Vescovo sono state rivolte ai vigili del fuoco per le importanti attività che svolgono e soprattutto per l'impegno e la dedizione. A rendere particolarmente suggestivo il luogo è stato anche un allestimento con del materiale tecnico di intervento con l'intento di ricordare gli alti valori che contraddistinguono questo corpo. Dopo la funzione religiosa si è data lettura del messaggio pervenuto dal capo l'ingegner Fabio Dattilo e a seguire il comandante l'ingegner Romeo Panzone che ha relazionato proprio l'attività svolta su tutto il territorio provinciale evidenziando che il corpo non è solo dedito al soccorso ma è un ruolo anche di prevenzione contro gli incendi e le esplosioni. Nel corso di quest'anno sono state ben mille e sei le istruttorie complessivamente elaborate dall'ufficio di prevenzione incendi. Il comandante ha concluso la cerimonia con l'ospicio che quanto prima si possa ritornare alla normalità augurando serenità per le prossime festività. I carabinieri della stazione di Tolve hanno arrestato in fragranza di reato due persone domiciliate a San Chirico Nuovo, un 33enne e la sua convivente ritenuti responsabili di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata di lunedì scorso i militari lungo la SS7 nel tratto che Davaio di Basilicata porta al Tolve hanno intimato l'alta l'autovettura con a bordo la giovane coppia. I militari si sono insospettiti non solo perché entrambi non hanno manifestato comprovati motivi per giustificare la loro presenza in quel luogo considerate anche le restrizioni dettate dal covid-19 ma soprattutto perché erano molto apprensivi e così i carabinieri hanno approfondito le verifiche. Sono stati sorpresi infatti in possesso di 5 grammi di cocaina contenuti in involucro in cellofan che il giovane alla guida del veicolo aveva tentato di nascondere tra i capelli tenuti legati all'indietro in modo da renderli più voluminosi, una mossa che non è passata inosservata ai carabinieri. I due ragazzi sono stati arrestati oltre a essere stati sanzionati amministrativamente per la violazione della normativa riguardante le misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. Io come ogni sera vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani.